Sì, devo parlarti Eh, dimmi zì Sì, è che, so, st'ultimo periodo Te vedo strano Non lo so che c'hai Te vedo agitato, non so L'atteggiamento a faccia, tutto Non credo Stai come? Non credo, sì Stai agitato, fidati, stai agitato No, sì, 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 sto sicuro, cazzo Non lo vedi? Sì, sì Oddio, non so Da amico, da fratelli proprio Da quanto tempo Non vai in bicicletta? Sì, stiamo sulla tangenziale Se vado in bicicletta, marotano con la macchina Se ingrassano le rote No, 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 no Non hai capito bene Da quanto tempo non inzuppi il biscotto? Sì, so il ceriavo da vent'anni Se mangi il biscotto ti muoio all'istante Proprio con la bava, la bocca No, no, sì, no, no, no Da quanto tempo non scupi? Ah, vabbè, se adesso Eh, vabbè, lo devi di subito Ma poco Settimane? Giorni, dai, giorni Mese massimo Saranno due anni, circa Due anni? Sì, vabbè, poco Sì, c'hai vent'anni All'età tua dovresti scopare Ogni santo giorno Dici che è un problema? Problema sì Cioè, due anni Ti devi trovare una ragazza Non guardare me Te lo dice pure Voodoo E che è Voodoo? Come lo sai che è Voodoo? Voodoo è un servizio che sa tutto su di te Non sbaglia mai Sì, mai È impossibile che sbaglia È impossibile Dimi un po' come funziona? Allora, tu pigli il telefono Ok Mandi un messaggio Con il tuo nome Cognome Città Scritto Ok Al 4870870 E lui ti dice tutto Tutto quanto ti dice Scritto? Vediamo Ha risposto? Ha risposto? E quindi sto in astinenza Lei mi sape sì Potrei utilizzare la mia notevole popolarità Per sensibilizzare su argomenti tipo alcol o droghe Invece parlo di astinenza sessuale Ma bravo Signori Benvenuti in Astinenza Effetti collaterali Cosa vi porto? Tette Non ho capito Due tè Due tè Alla pesca Pesca Limone? No, guarda Per me Va bene Una trombata Una trombata? Limonata Ah, hai detto limon Sì, limonata Limonata Un tè E un limonata E una E limonata A posto Va vai Grazie mille Grazie a te Senti Io Vado un attimo a spogliarmi A spogliarti? A incipriarmi Oh, incipriar Ah Ok, no Ma che c'hai oggi? Sei strano No, scusa Ho dormito poco Scusami Vai Tranquilla Ok Ma tutto bene? Facciamo sesso Come scusa? Mi hanno detto di essere diretto Quindi Facciamo sesso Ok Ok, andiamo Senti ma Tu nel video hai detto che Sì, no Ho fatto del sesso Quindi ti va a sesso Ok Ma Ma Mi hai scardinato la corona vertebrata Mi hai scardinato Adesso è gob Aspetta Quindi facciamo prima questa scena E poi È stato utile per la mia anima Per un po' di altruismo Perfetto Ma adesso passiamo Allora Questa è un'intervista Cara Giulia Ma spiegaci Tu sei una cantante Ballerina Laureata Insomma Attrice Un sacco di cose Tutto esatto Perché sei caduta così in basso Per collaborare con uno youtuber Sei napoletano Giusto? Mi dispiace Come è successo? Ciro raccontaci Come si chiama il tuo canale? Perfetto Adesso Perfetto 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 Perfetto